Noi abbiamo bisogno del gas russo e la Russia ha bisogno dei nostri soldi per pagare l'esercito. Soffocare la Russia con le sanzioni è l'unica arma da usare, ne è convinto il prorettore della Bocconi di Milano, Stefano Caselli, intervenuto in diretta su Telepace. L'obiettivo è isolare il colosso russo dal punto di vista finanziario, sperando che la sua economia collassi. Ricordiamoci che la Russia è un paese che ha pochissime imprese, perché la Russia che cos'è? E' un paese con un PIL relativamente piccolo, lo dobbiamo ricordare, la Russia è il dodicesimo paese al mondo. Si basa su tre cose, la pubblica amministrazione, l'esercito e le materie prime. Ci sono pochissime imprese, se si blocca il sistema dei pagamenti, fra poco la Russia si troverà senza beni e cibo medicinali sugli scaffali. Quindi questo è quello che verrà in Russia fra pochi giorni. E' qui che si inserisce la strategia di Europa e Stati Uniti. Se a Putin vengono a mancare le risorse per pagare il suo esercito, questo potrebbe diventare il vero tallone d'Achille ed è quello che tutti noi stiamo sperando. E' un po' l'obiettivo di questa strategia. Le sanzioni sono qualcosa di mai accaduto nella storia. Anche l'ipotesi di staccarsi dal gas russo è una riflessione forte, che avrà anche uno scotto da pagare. Si potrà andare, auguriamoci di no, a mesi, come si dice, di austerity e ovviamente avremo un costo da pagare, che è tutta la trasformazione delle rinnovabili, che non avviene in una notte, ma avviene con un conto che è stato stimato di più o meno 80 miliardi di euro. Quindi questa è la cifra che l'Italia dovrà pagare concretamente. Però dobbiamo farlo, insomma, questo è uno dei modi per fermare la guerra. Abbiamo quest'arma, dobbiamo utilizzare. L'Europa sta dando una lezione straordinaria di solidarietà, conclude l'economista, ma deve proseguire sul cammino dell'unità. L'Europa unita è grande come gli Stati Uniti, è grande come la Cina, ma a differenza di questi due paesi ha valori ben più profondi. Quindi si pone veramente come interlocutore che possa guidare un'azione di pace.